Bortel! 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 Speri che la copia rimanga questa o secondo te Zamboni dà qualcosa in più vista l'esperienza che ha? Io credo che l'intesa va affinata di domenica in domenica per chi gioca perché comunque deve essere un'intesa di reparto e di gruppo innanzitutto perché comunque nella fase difensiva devono partecipare tutti, non solo i difensori centrali, non solo i quattro difensori ma tutti. Quindi penso che sia un discorso più generale, più globale. Poi per quanto riguarda chi giocherà quello deciderà il mister. Si è visto un progresso generale della squadra domenica, questa settimana come è stato l'allenamento generale della squadra e vedi ulteriori progressi? Sì, a parte un po' con qualche scompenso con il campo dovuto alla pioggia e tutto, però ci siamo allenati bene quindi abbiamo fatto una buona settimana con finalmente magari un po' più di fiducia in più, un po' più di serenità tra virgolette in più dovuta alla prestazione di domenica, dovuta al punto di domenica. Visto che comunque siamo riusciti a non prendere gol e a non perdere, quindi sicuramente un po' più sereni. Il Gubbio mancherà a Gomez, autore di molte reti finora? Per voi sarà meglio o peggio? Oppure per voi ogni attaccante bisogna affrontarlo nella stessa maniera? Per noi, come hai detto bene te, ogni attaccante va affrontato con la stessa concentrazione, con la stessa determinazione, se no si rischia di fare figuracce. Ovvio, loro hanno un punto di forza che è appunto Gomez, come noi abbiamo in Cipriani, quindi quando mancano questi giocatori magari si può sentire qualcosa, però se sono lì davanti è perché evidentemente tutti hanno dato il loro contributo, quindi c'è da stare attenti. Da attaccante Gomez passiamo a Mendy che è arrivato in settimana, tu sei un difensore quindi marchi spesso attaccanti, come ti sembra come giocatore? Buon giocatore, mi ha fatto una buonissima impressione, oltre alle qualità che ha dimostrato, come atteggiamento, come persona, ha cercato subito di inserirsi nei compagni, di cercare di capire gli movimenti, quello che diceva il mister. Io poi ho avuto un rapporto un po' più diretto perché avendo giocato in Belgio un po' di francese lo so, quindi magari mi chiede la spiegazione a me, è sempre lì che mi fa domande, mi chiede il mister cosa dice, quindi un'ottima impressione. In questo momento la Spala è in una situazione di classifica a metà, voi guardate il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, cioè guardate più davanti o verso dietro? Io guardo in mezzo, non si può dire in mezzo, io guardo domenica per domenica perché, ripeto, come io l'ho sempre detto dall'inizio, la partita domenica per domenica è la cosa migliore, in questi momenti è sacrosanto. Grazie Francesco Battaglia